perché le mentos vanno innappiate con la coca cola con la coca cola ecco qua un pochettino di coca cola e noi vediamo che le mentos cominciano a germogliare cominciano eccole innappiamo ancora e vediamo le nostre mentos che cominciano a germogliare avremo ben presto la nostra piantagione di mentos la natura che trionfa ancora ancora dai ancora con più energia è rimasta l'ultimo forza esperimento riuscito cominciano eccole eccole innappiamo ancora e vediamo le nostre mentos che cominciano a germogliare avremo ben presto la nostra piantagione di mentos la natura che trionfa